Questa sostanza si chiama mioglobina. Dove troviamo questa proteina in natura? E questa è la cosa sconvolgente. Nel cuore umano, tantissima, e nei cetacei e nei capodogli. Non vi sembra che ci sia uno strano meccanismo di affinità? Sapete perché? Perché sono quelli che possono arrivare con l'occhio mammifero nelle più profonde profondità del male. E allora la mioglobina ci serve per entrare nelle profondità. Per la chimica è soltanto una molecola che assomiglia all'emoglobina. Ma com'è che il cuore ha quella stessa molecola se non perché gli viene richiesto di entrare nelle profondità delle nostre emozioni? È solo col cuore che lo posso fare, non col cervello. Guardate, ve lo dice uno psicanalista. Perché credevo che l'uomo non finisse col suo cervello. Lo capite? Ma comincia col suo cuore, questo sì.